Ciao a tutti, oggi sono qua per proporvi un book tag, sono infatti stata taggata dalla dolcissima Alessia del canale Books Lovers Army che trovate nelle schede qua state in descrizione. Questo tag mi sembra molto carino e interessante perché ha come obiettivo quello di creare una super squadra di sole ragazze provenienti dal mondo fantastico dei romanzi, però ho fatto molta fatica a trovare il personaggio giusto per ogni domanda perché io in genere non apprezzo tantissimo i personaggi femminili all'interno dei libri e soprattutto le protagoniste non so per quale motivo, quindi è stata un'impresa però ce l'ho fatta. Prima domanda, qualcuno che ti costringerebbe ad uscire quando tu vorresti rimanere in casa? Vin dalla serie Missborn di Brandon Sanderson. Questo è uno dei miei personaggi femminili preferiti in assoluto, quindi dovevo assolutamente includerlo nella mia girl squad però oltre a questo Vin è una ragazza molto dinamica, molto attiva e molto avventurosa quindi penso che non mi lascerebbe mai a casa, che troverebbe qualsiasi tipo di pretesto per andare in giro soprattutto durante la nebbia con il nebbiomanto perché io esigo un nebbiomanto adesso, ora e penso che mi porterebbe veramente in giro, non mi lascerebbe mai, mai a poltrire sul divano. Seconda domanda, qualcuno che ti coprirebbe le spalle? Per questo ho scelto Lady Aileana dalla cacciatrice di fate di Elizabeth May. Questo libro è fantastico, innanzitutto l'ho lessi tanto tempo fa però mi è rimasto impresso fino ad oggi e continuo a tormentarmi tutt'oggi perché purtroppo non ho ancora letto i seguiti e questo libro finisce in una maniera sospesissima, quindi a breve mi recupererò la serie in inglese perché purtroppo qua in Italia hanno interrotto la serie a questo primo volume e una delle cose che mi piace di più di questo libro è appunto Aileana una ragazza bellissima dell'altra società che caccia le fate appunto che in questo mondo sono degli esseri cattivi, terrificanti. È una ragazza molto determinata, ho sempre apprezzato la sua determinazione, la sua forza il suo voler andare contro ciò che la sua famiglia le richiede ciò che la società si aspetterebbe da una come lei per un bene tra virgolette superiore, per cacciare appunto le fate che purtroppo non tutti possono vedere quindi la gente è per lo più inconsapevole del pericolo che sta correndo ogni giorno mentre lei invece di nascosto diciamo protegge la popolazione o comunque la sua città dalla caccia le fate essenzialmente è una ragazza fortissima, super in gamba che mi piacerebbe tantissimo avere come guardia del corpo. Terza domanda, qualcuno che ti aiuterebbe con il trasloco? Non ci sono dubbi al riguardo Hermione Granger da Harry Potter con la magia in un secondo riuscirebbe ad inscatolare tutta la roba di camera mia e a portarla magicamente in un secondo in un'altra dimora ma soprattutto la cosa che mi premerebbe di più sarebbe sfruttare le sue doti magiche per poter ampliare casa mia. Non so se avete presente la tenda durante la partita di Quidditch del calice di fuoco proprio all'inizio del film o del libro quando vanno a vedere la partita di Quidditch c'è questa tenda piccolina che dentro invece è immensa ecco mi piacerebbe avere una casa del genere. Quarta domanda, qualcuno con cui condividere i tuoi problemi? Una brava ascoltatrice, Kat da Fangirl di Rainbow Rowell Kat è una persona a me molto affine caratterialmente è una persona molto sensibile è un pochettino anche introversa ed introspettiva e penso che sia una bravissima ascoltatrice che potrebbe aiutarmi tanto a sfogarmi e allo stesso tempo riuscirebbe a capire i miei problemi e ad aiutarmi in qualche modo proprio per questa affinità caratteriale. Quinta domanda, qualcuno con cui spettegolare? Non è una girl, però è comunque una miss Jane Marple di Agatha Christie Questo personaggio mi è venuto subito, ma proprio subito in mente perché è un po' pettegola Miss Marple però è un'attentissima osservatrice quindi a me piacerebbe tantissimo parlare con lei e tra virgolette spettegolare proprio per capire come fa ad intuire così tante cose da una persona semplicemente osservandola ed essendo poi una persona navigata che sa tante cose nella vita mi piacerebbe apprendere un po' della sua saggezza della sua perspicacia e fare tesoro di tutti i consigli che ha al riguardo per diventare un pochettino più perspicace in generale perché mi interessano tanto le persone e la loro psicologia e il loro comportamento ed è una cosa che interessa anche a questo personaggio è curiosa tantissimo verso l'umanità quindi mi piacerebbe confrontarmi con lei su questo Sesta domanda Qualcuno con cui andresti in vacanza? All'inizio ero decisamente in crisi perché io ho avuto bruttissime esperienze andando in vacanza con delle ragazze quindi non riuscivo a trovare nessun personaggio a me affine in questo senso poi lampadina che si illumina mi è venuta in mente Claire da la straniera in generale la saga di Outlander di Diana Gabaldon Claire è la persona perfetta con cui viaggiare innanzitutto perché è una persona che ci sa fare in fatto di viaggi ha un marito studioso di storia storico quindi sa veramente tanto di tanti posti diversi e inoltre sa come sopravvivere anche nella natura più selvaggia quindi mi aiuterebbe tantissimo da questo punto di vista ovunque andassimo sarebbe una bellissima guida per me ma ha anche un sostegno e inoltre anche medico quindi potrebbe aiutarmi nel caso avessi dei problemi di salute è una tuttofare praticamente oltre che una donna eccezionale quindi mi fiderei ciecamente di lei per andare in vacanza settima e ultima domanda qualcuno con cui uscire in tranquillità Nao da Orange di Ichigo Takano anche in questo caso è un personaggio a me molto affine caratterialmente è un personaggio molto sensibile anche molto tranquillo perché sa apprezzare le piccole cose nella vita non deve necessariamente vivere una grandissima avventura spostarsi chissà dove nel mondo ma sa apprezzare i piccoli gesti le piccole cose della vita quotidiana quindi penso che con lei mi troverei da dio anche semplicemente a prendere un tè qua in veranda a casa mia per dire questa era quindi la formazione della mia super squadra a base di ragazze yuhu spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate che cosa avreste risposto voi a queste domande quale sarebbe la vostra squadra di ragazze ideale e per quale motivo soprattutto spero di non avervi annoiato troppo e noi ci vediamo alla prossima ciao